Ragazzi, state attenti a quello che dicono alla BabboTV, soprattutto quando si parla di dati. Vediamo. Lele, e volevo dirti, le ultime dieci partite, sai chi è la migliore difesa della Serie A? Juve. No, no. No, credo la Lazio. Bravissimo. Sì. Giustamente, Ghieri pare perplesso, quei due parlano davanti a 30.000 persone, non c'è nessuno che li possa smentire. L'affermazione in cazzana, infatti, è una cavolata astronomica. Nelle ultime dieci partite l'Inter ha subito solo quattro gol, la Juventus ha subito solo cinque gol, il Milan ha subito otto, il Napoli nove, il Torino dieci, l'Atalanta undici, lo spezia di Tiago Motta dodici. Ma aspettate, non c'è ancora la Lazio perché prima c'è il Bologna con tredici gol subiti e poi arriva la Lazio del maestro Sarri, quattordici gol subiti, nona per gol subiti nelle ultime dieci. Grazie a tutti.